Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, raga, il Bayern Monaco vi vuole Douglas Costa, bene si raga, cioè vuole di nuovo Douglas Costa, il Bayern Monaco vuole di nuovo Douglas Costa. Siete seri? Cioè la Juventus l'ha riscattato in quest'estate per ben 40 milioni di euro e ora voi lo rivolete? Siete morti o cosa? Io non lo darei per nessuno al mondo Douglas Costa, preferirei vendere Bernardeschi che Douglas Costa. Secondo me Douglas Costa è fortissimo, è fortissimo, peccato per gli infortuni che l'hanno condizionato nella sua carriera, però raga, avrà 27-28 anni a Douglas Costa, non è che sia tutto sto gran vecchio, saluta sta gran vecchiaia qua, quindi ancora tanto davanti. Sarei sorpreso se la Juventus tratterebbe con il Bayern Monaco per Douglas Costa, sarei davvero troppo, troppo sorpreso. Non so quanto ci starebbe sinceramente questa proposta del Bayern Monaco, a meno che io offrono 80-90 milioni, lì ti posso dire va bene, avete ragione, lo ci hai detto, ma forse nemmeno. Non lo so, molto sinceramente non lo so, perché Douglas Costa è tanta 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 roba, secondo il mio modestissimo parere. Poi quello che vuole fare la Juventus non lo so, io spero che lo tenga, però se non lo dovessi tenere, ce ne ho sti cazzi no, però mi dispiacerebbe moltissimo. Che dire ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, fatemi sapere questo video, commentate la vostra, iscrivetevi al canale, attivate la canale e ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!